Il compleanno di Arezzo è la città dei manifatturieri. Questo compleanno molto importante presenta tre personaggi che hanno a loro modo un'artigianalità. Mieli nelle parole, essendo stato direttore di importanti quotidiani nazionali, Verdone, che è come lui stesso si definisce un artigiano dello spettacolo, ma anche Filippo D'Averio, che è un grande conoscitore della nostra città ed è molto legato ad Arezzo e quindi lo salutiamo molto volentieri. Ci saranno Paolo Mieli, Filippo D'Averio e Carlo Verdone come ospiti d'eccezione. È infatti tutto pronto per la grande festa di CNA in programma venerdì 22 dicembre. Il palcoscenico è quello delle grandi occasioni, il Teatro Petrarca di Arezzo, per un'edizione speciale della Magia delle Mani, la settima dedicata ai 70 anni di CNA Arezzo. È un momento più che importante perché è anche un anniversario. Non solo si festeggiano gli artigiani, ma si va anche a festeggiare 70 anni da quando è nata CNA Arezzo, che ha aiutato a comporre quella che è comunque la grande confederazione di CNA. In Arezzo poi si sono collocati, grazie anche al territorio e all'arte, che è territorio, l'aiutati e intrinseco all'interno degli artigiani, ad avere ancora più numero. Siamo un'associazione in crescita, la più importante del manifatturiero e i nostri artigiani vanno festeggiati proprio per quello che realizzano.